Musica Mancano sempre di più le figure professionali nelle piccole e medie imprese del Piemonte Con i dati dell'ultima indagine dell'ufficio studi di Confartigenato Piemonte Sappiamo che il 48,3% delle figure professionali ricercate non sono reperibili Presidente, per quale motivo? Secondo me il motivo è perché in questo paese manca un piano industriale coerente da troppi decenni Se ci fosse un piano industriale uno potrebbe abbinarci un piano formativo come avviene in altri paesi E' troppo facile fare l'esempio della Svizzera, ma se noi prendiamo la Svizzera e la Germania Le necessità industriali del paese vengono studiate con tanto tempo in anticipo E quindi si fa la formazione rispetto a persone che poi sicuramente avranno un posto di lavoro E la disoccupazione parla abbastanza chiaro E poi c'è un tema legato molto alla percezione delle imprese artigiane Rispetto a tante famiglie che preferiscono parcheggiare i figli all'università A non fare nulla, ad essere disoccupati poi E a non imparare un lavoro perché si pensa che un'impresa artigiana per forza debba metterti a contatto Con un lavoro che nell'immaginario di alcuni poco informati E' relegato a immagini del passato, immagini forse del XIX secolo A posti non sicuri Quello che io tengo a sottolineare è che le imprese artigiane lavorano tecnologicamente con la pulizia C'è tanto lavoro, c'è tanta fatica, sì c'è tanto impegno Ma in un ambiente pulito, protetto, in un ambiente familiare In un ambiente che dà possibilità di sviluppo professionale E ci sono anche delle soddisfazioni di tipo economico facendo l'artigiano? Indubbiamente i nostri contratti sono diversi da quelli dell'industria Però un artigiano intanto impara un mestiere La differenza è questa, si sta perdendo molto l'etica del lavoro E non è che ci siano dei colpevoli precisi Ma in una bottega artigiana tu impari un mestiere In un corso di formazione fino a se stesso, magari che serve a qualche grossa industria Tu impari una funzione Sono due cose completamente diverse Un mestiere ti apre una via e ti apre una vita Una funzione invece ti limita a quello che devi fare Mancano tante figure professionali Mancano gli autisti ad esempio dei camion Quindi mancano i muratori Mancano tante figure professionali del settore dell'edilizia E questo può creare dei problemi alla nostra regione Anche per quanto riguarda i nuovi arrivi di soldi di PNRR Che dovrebbero portare il nuovo lavoro Sull'edilizia c'è un problema grosso che secondo me non dipende tanto dalla mancanza di figure professionali Ma dipende proprio dalla capacità produttiva del sistema edile italiano Nel senso che la sfida futura sarà un'altra roba che si è invitata all'Unione Europea Le case green Che andrebbe declinata sui territori a seconda proprio delle caratteristiche di questo territorio Se dovessimo stare dietro alle direttive europee Forse in 600 anni riusciremo a riqualificare il nostro patrimonio di inizio E quindi c'è un problema che secondo me è di ridondanza di certe direttive rispetto alle esigenze effettive Rispetto a quella che è la realtà Ma indubbiamente un tema è anche la caratteristica tipica del lavoro edile Che sicuramente è pesante E sicuramente non incontra un gradimento da parte di persone che vengono da famiglie Che secondo me non hanno educato i figli al lavoro Perché è una cosa che va detta Tantissime famiglie preferiscono, come dicevo prima, parcheggiare il figlio in situazioni dove non si sporca Dove sta, però sicuramente non gli dà un futuro Mancano anche tante figure del settore digitale E questo è abbastanza curioso perché l'innovazione ormai non è più futura, è presente C'è una grandissima confusione sul mondo digitale Perché un conto è essere un professionista nel mondo digitale E un conto è essere uno smanettone E il problema è che quando si pensa che sia facile accedere al mondo digitale Perché anche un ragazzino riesce magari a gestire dei sistemi informatici Però non si pensa in chiave di sviluppo E quindi cosa succede? Succede che c'è una frustrazione E che ci si lascia vivere E che non si seguono dei percorsi professionali precisi Ma soprattutto non si investe in se stessi E non ci si butta in gioco Magari cominciando a lavorare in piccola realtà E poi dopo approdare a scelte un pochino più strutturate Quindi la soluzione quale potrebbe essere? Allineare sempre di più la scuola e la formazione ai bisogni delle imprese? La situazione è che questo paese deve darsi un piano industriale E un piano industriale è fatto di tante piccole aziende È fatto di tante grandi aziende Che in questo paese purtroppo mancano Perché gli è consentito andare a mettere la sede altrove dove non pagano le tasse O ne pagano pochissime Quindi c'è una cultura industriale che deve essere ricostruita E quando si ricostruisce questa cultura industriale Si fa un piano di sviluppo nel proprio paese Senza badare gli interessi di altri A quel punto puoi costruire un piano formativo Di conseguenza devi anche però lavorare sulle famiglie Perché una famiglia deve capire che non è detto che fare Chiedo scusa non me ne vogliano gli avvocati Ma fare l'avvocato a vivacchiare Perché ci sono decine di migliaia di tuoi colleghi nella tua città Quando potresti fare un lavoro da artigiano Se ti fossi formato prima E potresti aver soddisfazioni Secondo me è una sciocchezza Grazie a tutti